scheda logica arrivata per un cliente spedita direttamente più da noi l'annuncio scheda logica 2,5 gigahertz i5 metà 2012 236 euro condizioni usato più spese di trasporto e quant'altro scheda logica arrivata scheda logica esaminata questa è la scheda logica grazie grazie e guardate la quantità dei danni che ha questa scheda logica grazie 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 a tutti.